L'Università di Firenze produce gratuitamente il reagente necessario all'analisi dei tamponi per il Covid-19. La sostanza sta scarseggiando nei laboratori del Servizio Sanitario Regionale. Da alcuni giorni anche il rifornimento è difficoltoso. Di qui la richiesta di aiuto rivolta all'Università dal Policlinico di Careggi. Alcuni docenti universitari hanno quindi individuato la formulazione del reagente e i tecnici dell'Ateneo ne hanno già prodotto 6 litri, sufficienti per analizzare 6.000 tamponi. La Regione Toscana ha fatto un numero elevatissimo di tamponi, sono 70.000 e vogliamo continuare a farlo sempre di più. Abbiamo avuto difficoltà, come ormai tutti sanno, nel settore dei reagenti ma anche qui c'è una buona notizia e voglio davvero ringraziare sentitamente i ricercatori dell'Azienda Ospedale Universitaria di Careggi, l'Università di Firenze che ha trovato il modo di produrre il liquido che ci consentirà di usare i tamponi e di poterli analizzare con il reagente. Hanno già prodotto qualcosa come 6 litri di reagenti che sono ritenuti sufficienti per 6.000 tamponi. Diciamo che ormai noi riusciamo ad effettuare qualcosa come 5.000 tamponi il giorno e quindi questo è un discreto contributo senz'altro. Grazie a tutti.